Buongiorno a tutti, eccoci arrivati alla quarta ed ultima parte della presentazione sulla teoria e la pratica di forno a scatola. Non dimenticatevi che poi a seguire ci sarà anche una presentazione, un video tutorial sull'autocostruzione vera e propria del forno a scatola, per chi fosse interessato, sempre all'interno del progetto Creabili e presentazione promossa dai sentinelli dell'energia. Oggi impareremo in particolare i trucchi del mestiere con il forno a scatola. Riportiamo in particolare diverse informazioni tratte da un manuale di cucina con il forno solare a scatola e qui c'è un riferimento diretto al manuale stesso che in un certo passo del volumetto recita che utilizzare un forno solare e cucinare con esso può essere inizialmente un compito scoraggiante perché si tratta di un metodo di cottura a cui non siamo abituati, in cui apparentemente la temperatura di cottura non è controllabile. Le regole più importanti quando si cucina con un forno solare consistono nella necessità di preriscaldarlo e non utilizzare pentole e padelle scure, preferibilmente nere, con coperchi in grado di chiuderle perfettamente. Chiuderle perfettamente, aggiungo, perché far sì che il vapore che si sprigiona dalla cottura e si allontani dalla camera di cottura è una perdita di calore che non ci possiamo permettere. Qui vediamo degli esempi di pentole scure che possono essere racchiuse da coperchi anch'essi neri oppure da coperchi trasparenti in vetro. Come abbiamo detto è importante per riscaldare il forno e allo stesso tempo è importante per riscaldare i contenitori. Al proposito vi raccomandiamo di utilizzare sempre delle presine perché movimentare i contenitori è molto pericoloso soprattutto dopo quando il cibo è pronto perché scotteranno tanto. Ecco, questo è riferimento da cui abbiamo tratto la citazione e da cui traiamo altre informazioni che vi riportiamo oggi. Si tratta del manuale EcoFootprint South Africa che si può ritrovare sul sito www.ecofootprint.co.za. Qui comunque ci sono tutti i riferimenti nella presentazione. Cucinare con un forno a scatola quindi. Se si cucina a cavallo tra le 10 e le 13 insomma o anche 10, 13, 30, la radiazione solare sarà elevata e pressoché costante come abbiamo visto nella presentazione sul comportamento della radiazione solare, sul conoscere il nostro sole. E se il forno è ben orientato verso il sole la temperatura di cottura sarà anch'essa pressoché costante. Il cibo tipicamente non si brucia in un forno solare a scatola e se si tratta di pane o di crostate al massimo è quello che può succedere se lasciamo per troppo tempo il forno al sole e che questi perdano tutta la loro umidità e si secchino. Mentre se si tratta di pollo o di altra carne e se si tiene il cibo per troppo tempo in cottura non faremo altro che renderlo più tenero quanto più lo cuociamo. Io sono vegetariano quindi non sono interessato alla carne però nulla toglie che voi possiate utilizzare il forno per cuocere carne. In generale non è necessario mescolare il cibo durante la cottura e il cibo cotto in un forno a scatola richiede meno acqua rispetto a quando viene cucinato in un forno tradizionale o ai fornelli. Ciò aiuta a conservarne le proprietà nutritive e il sapore. Sul nostro sito internet curiamo una sezione dedicata alle ricette in cui vi descriviamo come ad esempio cuocere del riso richiede pochissima acqua ed è molto interessante. Facciamo un esempio. Quando si cucina un pollo intero o della carne a pezzi si consiglia di utilizzare un termometro da forno a contatto e se disponibile per verificare il raggiungimento della temperatura interna di 155-165 gradi da parte della carne il che ci dice che questa è pronta. È possibile cucinare pasta e riso con un quantitativo di acqua in centilitri pari al quantitativo di pasta o riso in grammi ad esempio 300 grammi di riso 300 centilitri d'acqua. Alcuni dicono invece di usare una volta e mezzo in centilitri il peso in grammi del riso e dell'acqua quindi 300 grammi di riso e 450 grammi di centilitri di acqua. E appunto qui c'è un riferimento al nostro sito internet www.grupposelene.net cucinare la pasta e abbiamo anche la pagina cucinare il riso e più in generale la pagina sulle ricette. Cucinare un forno a scatola. Il manuale EcoFoodsprint South Africa ci fornisce altre utili indicazioni ovvero sia che se si utilizzano dei cesti ben coibentati è possibile conservare il cibo caldo per una o due ore il che oltretutto mantiene la cottura in un certo senso a bassa temperatura. Quali altre informazioni sono utili per imparare a cucinare con il forno solare a scatola? Sono utili la conoscenza delle temperature alle quali avvengono le varie reazioni chimiche fra le molecole presenti nei nostri cibi. In particolare gli zuccheri hanno temperature di caramellizzazione che per il fruttosio è di 110 gradi centigradi, per il galattosio, il glucosio, il sucrosio e il sucrosio è di 160 gradi centigradi, per il maltosio è di 180 gradi centigradi. La caramellizzazione offre quel risultato succulento diciamo nella cottura degli alimenti zuccherati. Ad esempio quando si cuoce del pane come potrete trovare nelle ricette su internet di cottura del pane sul forno solare si consiglia ogni tanto di aggiungerci dello zucchero per favorire la croccantezza dell'alimento. Ecco qui ci sono altre linee guida sulla temperatura del forno solare che ci dicono che il cibo che si trova all'interno di un forno solare non dovrebbe essere posto all'interno del forno se le temperature sono inferiori ai 60 gradi centigradi. A 100 gradi abbiamo la temperatura di ebollizione dell'acqua. A 120 gradi abbiamo il punto di sterilizzazione e quindi si raccomanda di preriscaldare il nostro forno a questa temperatura o temperature superiori prima di porre il cibo in cottura e si consiglia di cuocere il pollo o altra carne a temperature non inferiore ai 150 gradi. Ecco una delle ultime indicazioni. Grazie a un forno solare come abbiamo visto anche nella prima parte della presentazione su forno solare scatola è possibile bollire e cuocere a fuoco lento. Non avremo mai un'ebollizione tipica nell'acqua posta in un fornello però potremo comunque cuocere della pasta e in verità sulla pasta non abbiamo grosse esperienze abbiamo trovato riferimenti online mentre per il riso abbiamo già delle esperienze che ci testimoniano come i risultati sono più che soddisfacenti. Possiamo anche sbollentare ovvero sia nel caso di frutta e verdura e possiamo appunto lessare e sbollentare gli alimenti e non è richiesta acqua in funzione della quantità di cibo può richiedere tra i 20-30 minuti e alcuni esempi di cibi sono i pomodori, i peperoni, le pesche. Cottura a vapore. La cottura a vapore richiede il 20-30% in più di tempo rispetto a una cottura a vapore tradizionale mentre per quanto riguarda la cottura, la rostitura e la tostatura va bene per pane, torte, biscotti, pollo, carne, arrosto, nozze e semi. Si deve usare una teglia di metallo scuro o un contenitore di metallo scuro. Per ottenere questi risultati però bisogna raggiungere le temperature di reazione di Maillard. Mi scuso per la pronuncia, non sono esperto di francese, però in che cosa consiste la temperatura? La reazione di Maillard. Prima di tutto ve lo spieghiamo fornendovi alcuni esempi. Alcuni esempi di reazione di Maillard. La crosta del pane e della crostata. La doratura nei soffritti e nei fritti. Cipolla, patatine, cotoletta. La crosticina della bistecca. Il segreto per un'ottima bistecca è favorire una buona reazione di Maillard e insieme salvaguardare il contenuto dei liquidi del taglio di carne. Quindi, che cos'è la reazione di Maillard? La reazione di Maillard avviene durante l'interazione nella fase di cottura di carboidrati e proteine. Ed è significativa solo a temperature superiori a 140 gradi. Alcuni riferimenti dicono anche 160. Comunque sì, a 140 è già un buon risultato. I composti formano degli aggregati odorosi tipici, molto apprezzati e attrenti per il palato. Sono quelli che abbiamo citato come esempio prima. Consigli per favorire la reazione di Maillard. Per una buona reazione di Maillard la temperatura dovrebbe restare tra i 140 e i 180 gradi. Sopra i 180 gradi invece cominciano a bruciare gli alimenti e quindi a crearsi composti tossici o cancerogeni. Quindi non è consigliato andare troppo sopra o quantomeno per poco tempo. Mentre la superficie di contatto con l'alimento dovrebbe essere in metallo. Alcuni alimenti come le carni bianche possono essere poveri degli zuccheri necessari. In questo caso si possono aggiungere vino, limone o arancia oppure fare una leggera glassatura col miele. Il comune zucchero da cucina invece è saccarosio così com'è non va bene. Perché favorisca la reazione di Maillard è necessario che sia scomposto nei suoi componenti principali che sono il glucosio e il fruttosio. Ciò che si può ottenere combinandolo con vino o altre sostanze acide come il limone. Ecco, queste informazioni sono tratte da questo riferimento www.moebiusonline.eu fuori onda cucina scienza reazione di Maillard. Ecco, se volete avere altre informazioni sulle ricette e sulle cucine con i forni solari, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.grupposenene.net ricette con i forni solari, di cui qui vi riportiamo un esempio relativo alla cottura di un uovo sodo. Abbiamo fatto un'esperienza ripetuta di cottura dell'uovo sodo. Praticamente io andavo a studiare in biblioteca, lasciavo il forno a casa al sole, orientato verso il mezzogiorno, e tornato nel pomeriggio d'estate trovavo ancora il forno bello caldo e l'uovo sodo pronto. Comunque, se volete saperne di più, non sto a dilungarmi, andate a vedere il nostro sito. Grazie per l'attenzione e ringrazio ancora una volta Flavia Ferri, una nostra ex componente del gruppo giovanile informale delle Sentinelle dell'Energia, che è adesso diventato associazione di promozione sociale, per averci fornito i loghi della Sentinelle a batteria. Io sono il presidente rappresentante legale dell'associazione, Davide Bianchini. Non dimenticatevi, alla prossima per il video tutorial sull'autocostruzione di forni a scatola. Grazie!